Totale ed incondizionato affidamento a Dio, un inno alla fede e alla natura. Scintille di luce è una raccolta di poesie della scrittrice sant'angelese Angela Di Benedetto. Sabato sera l'opera è stata presentata proprio nel suo paese di origine, dove lei ancora vive con le sorelle. Ad ospitare l'evento, coordinato da Pino Vaccar, una affollata aula consigliare. Angela Di Benedetto, di fronte a tanti visi condivisi ai familiari, non ha nascosto un pizzico di emozione. Per me è stato un grande onore essere qui nella sala consigliare del comune, dove io vivo. Quindi per me è una cosa grande, è una cosa incommensurabile. E dico tutto già. Ma la scintilla da dove nasce? La scintilla nasce dal più profondo del cuore. Per me sono sentimenti, emozioni, sensazioni, che nascono proprio, come ho detto, dal profondo del cuore, raggiungono la mente. Ecco che poi ti viene subito la poesia. Quanto è importante la fede per poter avere una qualità di vita migliore, per poter avere stimoli, più forze per andare avanti? La fede è innata in me e poi è stata veramente inculcata dai miei genitori, perché loro sono stati i veri maestri, i veri modelli della vita. E quindi per me la fede è tutto. È amore, è serenità, è gioia. A promuovere scintille di luce l'associazione Maria Cristina di Savoia, rappresentata dalla presidente Marina Arnone, mentre a trasferire sentimenti poetici ci ha pensato l'apprezzata artista grigentina Giusy Carreca. A curare la prefazione di scintille di luce è stata Rita Monella, componente dell'associazione. La cosa che mi ha colpito maggiormente in scintille di luce di Angela Di Benedetto è stata questa sinergia molto forte tra un'interiorità molto forte e quindi un anelito al Signore, a Dio, a una religiosità intimistica e un collegamento particolare con l'amore per la natura, l'amore per le relazioni umane, per la gente, in un afflato particolarmente forte. Sant'Angelo Muxaro si arricchisce dunque di nuove ed interessanti esperienze culturali a cui l'amministrazione comunale presta grande attenzione. La poesia che è stata espressa con grande sentimento, d'animo, da una poetessa che è nata e vissuta qua a Sant'Angelo, che rispecchia i nostri sentimenti, i sentimenti di una popolazione rurale, però che ha uno spirito alto, uno spirito rivolto verso Dio. Lei ha visto in tutte queste poesie che ha scritto e c'è un filo che ci conduce tutto verso l'amore. L'amore con una supervisione divina e questo è quello che rende queste poesie qualcosa di particolare, di intimo, dell'animo di una persona che sicuramente ha avuto delle sofferenze e che è riuscita a trasmetterla attraverso queste poesie. Grazie. 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 Grazie.